se essere eroe se essere eroe significa andare lontano dal mio paese, dalla mia patria per ridare dignità a un popolo in difficoltà senza acqua, luce, cibo allora lo sono stato se significa rinunciare ai miei effetti più cari ai miei amici alla vita di sempre per giorni, settimane, mesi allora lo sono stato se essere eroe include la condivisione del cibo con fratelli di altre razze nazioni, lingua, religione allora lo sono stato non mi fa eroe un singolo giorno della mia vita o una bomba che mi ha fatto saltare in aria l'eroismo, quello vero sta nel sacrificio nel come si vive, si agisce, si pensa se proprio mi vuoi definire eroe fallo per tutta la mia vita vissuta intensamente senza risparmiarmi mai compassione dedizione, forza, coraggio e gratitudine verso Dio per tutto quello che mi è stato donato sì, sono un eroe siamo eroi di quelli che incontri per strada a cui hai stretto la mano e ti hanno donato un sorriso che hanno cercato di rendere questo mondo un po' migliore sacrificando la vita stessa sono stato siamo stati uomini mariti, padri, amici, figli, fratelli soldati soldati senza guerra fieri di essere italiani grazie a tutti grazie a tutti